Ciao ragazze, spero state tutte bene. Ne approfitto per mandarvi un grosso bacio e un grosso saluto. Ci tenevo a precisare che l'unica mia pagina ufficiale si chiama Tara Gabrioletto Ufficial Forum che è gestita da me in primis, ma purtroppo avendo anche un negozio e due mani non sempre riesco a rispondere a tutti e quindi mi aiutano Monica, Simona, Antonella e Ilaria. Quindi se trovate qualche messaggio firmato con questo nome, tranquille, sono comunque scelte da me, persone fidate alla quale mi affido a loro sempre al 100%. Tengo anche a precisare che non ho nessun tipo di social a parte questa pagina, quindi non ho Twitter, non ho Instagram, non ho una pagina Facebook privata, tutti questi social a mio nome sono persone che si spacciano per me, scrivendo un sacco di bagianate, quindi vi prego di segnalarle e vi posso assicurare che anch'io, essendomi stancata di questa situazione, prenderò provvedimenti e mi sto già muovendo con il mio avvocato e con la polizia a rintracciare tutti i lidi e tutte le persone che continuano a usare la mia immagine, che comunque legalmente non si può fare. Sono stanca di queste cose, sono dispiaciuta di dover fare questo video, però forse è l'unica maniera per finire di prendere in giro persone spacciandosi per me, perché questo non mi va proprio assolutamente bene. Con questo vi mando un bacio e mi raccomando, fatele brave! Grazie a tutti!